Ha aggredito la figlia, quattordicenne, e il figlio della compagna, un ventenne, con sé aveva anche una pistola. Ancora un caso di violenze tra le mura domestiche, per questo un imprenditore di Anghiari, 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. È successo la scorsa settimana, i due giovani fratelli, che vivono con l'uomo e la moglie, sarebbero stati spesso oggetto di maltrattamenti del 49enne, che però non avevano mai osato denunciare. Ma questa volta, di fronte all'ultimo brutale episodio, i due ragazzi si sono rivolti ai carabinieri. I militari sono così intervenuti sul posto e hanno messo in manette l'aggressore. La quattordicenne è stata portata in ospedale a Sansepolcro in codice rosso. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri, infine, hanno anche sequestrato la pistola, una calibro 22, e le munizioni che deteneva regolarmente in casa.